Nella giornata di ieri sera una nostra collega, Alessandra, è stata assalita e picchiata brutalmente qui a Stralburgo. Mi chiedo quale Europa è, un'Europa in cui non si è liberi di poter camminare per le strade in una città come questa, che ospita tutti i parlamentari. Penso che lei, Presidenta, debba chiedere al Sindaco di Stralburgo, alla Polizia, di poter garantire l'incolumità e la sicurezza dei membri del Parlamento che sono qui una volta al mese, perché quello che ha accaduto ieri ad Alessandra può accadere a qualsiasi altro collega. È davvero incredibile che ci sia una caccia al deputato europeo per le strade di Stralburgo senza che ci sia un'adeguata tutela della presenza. Se non ci vogliono voteremo l'unica serie e ce la andremo dalla Francia, non è un problema questo.